Buongiorno amici, stavo leggendo un po' di cose online. Allora, vediamo di ricapitolare, se ho capito bene. Possiamo andare ad accompagnare i nostri figli a scuola, le scuole sono aperte, con i capelli fatti, barbieri e parrucchieri aperti, la busta della spesa in mano, negozi alimentari aperti, con una sigaretta, i tabaccai sono aperti, il cellulare nuovo, negozi di elettronica sono aperti, il profumo, lo shampoo, i negozi per la cura della persona sono aperti, le medicine, le farmacie sono aperte, in macchina con la benzina appena messa, i benzinai sono aperti. Prima di andare al lavoro, comprovata motivazione per uscire di casa, possiamo andare a correre un po' sotto il palazzo per stare allenati, e tutte le tute, le scarpette, magari comprate da Decathlon, che è aperto, quando poi torno a casa la sera compro un bel mazzo di fiori per la mia donna, i fiorai sono aperti, magari prendo dei giocattoli per i bambini, i negozi di giocattoli sono aperti, ritiro i vestiti lavanderia, è aperta la lavanderia. Poi, se mi rimane del tempo, mi fermo in ferramenta, aperta, per fare qualche lavoretta a casa, magari, e finalmente mi leggo un giornale la sera, le edicole sono aperte, con i miei nuovi occhiali, negozio di ottica aperto, tutto questo, naturalmente, con tante belle autocertificazioni, stampate con il toner, e la carta comprata in cartoleria, che è aperta, però, non andate al bar, al ristorante, in palestra, in pizzeria, al cinema, al teatro, dice il virus. Grazie.